Domenico Santisi, parliamo di piscina comunale, torna ad essere fruibile dopo un anno e mezzo che non si poteva, giustamente i ragazzi non si potevano allenare e usufruire di questa importante struttura. Sì, sicuramente la riapertura della piscina è un punto molto importante che avevamo molto a cuore come amministrazione, la piscina è una struttura importantissima non soltanto per la comunità nizzarda ma anche per l'intero comprensorio ionico, per cui sin dall'inizio ci siamo attivati affinché l'apertura della piscina e di questa fondamentale struttura per il territorio venisse fatta. Avete impiegato circa 100.000 euro per fare questo intervento di ristrutturazione? Sì, la convenzione prevede un investimento fondamentalmente da parte nostra di oltre 100.000 euro, quindi parliamo di un investimento importante ma ripeto è un investimento ben fatto, sono soldi ben spesi perché un'amministrazione dovrebbe sempre mettere al primo posto strutture che non soltanto promuovono lo sport ma anche la socializzazione e l'inclusione nel nostro territorio. Queste strutture sono l'unica del comprensorio ionico, tra Messina e Taormina c'è solo quella di Nizza, quindi questo vi dà tanto onore? Sì, sicuramente è una struttura importante come dicevo precedentemente, non soltanto per Nizza ma appunto per l'intero comprensorio. Noi abbiamo cittadini anche dai paesi limitrofi che ovviamente soffruiscono di questo servizio. Se non sbaglio è una gestione di 12 anni per questo tipo di strutture che avete dato ad una società? Sì, abbiamo cercato di trovare con questa convenzione e nella trattativa che c'è stata con l'attuale gestore un equilibrio anche da questo punto di vista che tenesse conto della durata di medio lungo termine, quindi di 12 anni e anche dell'investimento che noi come amministrazione abbiamo intrapreso per promuovere la riapertura.